Ciao ragazzi, eccomi qua con la mia prima nail art Halloween ovviamente una nail art che non è portabilissima per tutte ma essendo io una persona molto estrosa soprattutto per quanto si parla di Halloween ho voluto riprodurre questo effetto su tutte le unghie questo non significa che se a voi non piace così potete realizzarla su un unghie o anche su due infatti alla fine del video tutorial vi mostrerò anche la foto dove propongo la nail art su due unghie e vedere la differenza di effetto è una tecnica molto semplice, soprattutto divertente, infatti sono sicura che vi divertirete a realizzarla e nello stesso tempo anche d'effetto perciò questa è la nail art, se vi piace seguite il tutorial dopo aver applicato una base indurente applico due strati di smalto con l'ergo della essence numero 02 prendo un pezzo di carta adesiva la piego in due lasciando esternamente la pasta adesiva prendo delle forbici e faccio do una forma semicircolare in questo modo così creo questo effetto qui per non sponcare le cuticole adesso con una cannuccia oppure un astuccetto della penna BIC come ho fatto io vado a realizzare l'effetto sangue con uno smalto della Ceramic Effect numero 07 Laila applico del prodotto su un pezzo di carta impregno la punta della penna BIC la metto sopra l'unghia e soffio dall'altra parte così adesso tolgo la carta adesiva che avevo messo in precedenza e poi rimuovo lo smalto in eccesso con un cotton fioc e del solvente quando lo smalto si è ben asciugato applico un qualsiasi top coat con un'accomitante e del solvente è un'accomitante che è un'accomitante che è un'accomitante che è un'accomitante e del solvente è un'accomitante sono le dischi e del solvente per la carta vuoi Grazie a tutti.